per contattarmi potete scrivermi alla mia casella gmail quindi unimagazzine, scritto unimagazzinechiocciolina.gmail.com il mio blog che potete leggere e commentare dietrolequinte.bloglist.it senza.com basta, potete passare a trovarmi in redazione se volete prendiamo un caffè soltanto che io sono a Catania e magari per molti di voi viene un po' scomodo Corso delle Provincie 247 Catani, vi aspetto, ciao ciao!